E' Valentina Vadi, sindaca di San Giovanni, il nuovo presidente della conferenza dei sindaci del Valdarno. Succede a Sergio Chienni, primo cittadino di Terra Nuova a Bracciolini, che era in carica dal 2017. Innanzitutto mi preme ringraziare il presidente della conferenza dei sindaci uscente, Sergio Chienni, che ha tenuto la conferenza proprio su richiesta di noi sindaci del Valdarno, anche oltre il suo mandato nel periodo difficile della pandemia e a questo naturalmente aggiungo anche il ringraziamento per i sindaci che hanno avuto fiducia in me e mi hanno ritenuta all'altezza di svolgere un compito così delicato. Sicuramente una grande attenzione per quello che è l'ambito di tutti i servizi socio-sanitari, quindi che riguarda la sanità territoriale e poi soprattutto un'attenzione particolare e mirata nei confronti del nostro presidio ospedaliero che in questi ultimi tempi sta mostrando segni di grosso affaticamento. Tra i primi impegni quello di chiedere un incontro all'azienda sanitaria. Sicuramente sì, prima un passaggio diretto con quelle che sono le persone che lavorano quotidianamente dentro l'ospedale per prendere consapevolezza e coscienza chiara di quella che è la situazione attuale. E poi naturalmente sì, perché la ASL è il referente più importante per quello che riguarda i servizi sanitari e ospedali, per cui per forza è assolutamente sì un confronto diretto con la ASL.